Alloggi per i nuovi poveri c'è un bando europeo a cui il Comune di Pescara vuole partecipare. Lei aveva, Sindaco, parlato nei giorni scorsi dell'importanza di far rete. Chi vuole essere aiutato sarà aiutato? È così? Sì, dal primo giorno in cui mi sono insediato il problema reale che ho affrontato in maniera determinata è proprio il degrado della città, che non si è concretizzato soltanto in blizzi, in alcune zone che erano state totalmente abbandonate, ma con la consapevolezza che c'è chi deve essere aiutato perché vive in una condizione di disagio sociale che a Pescara non può essere accettata. Quindi chi vorrà stare dentro le regole, chi vorrà avere l'aiuto dell'amministrazione e dei tanti soggetti che operano nel sociale troverà le porte spalancate anche attraverso progetti mirati che permetteranno di avere degli alloggi a prezzi calmerati in modo tale da far sì che le persone che vogliono possano ritrovare la dignità perduta. Però chi pensa di delinquere in questa città, chi pensa di spacciare, chi pensa di comportarsi in maniera incivile e dovrà capire che da questa città deve andare via perché Pescara è una città civile che aiuta tutti ma aiuta chi vuole essere aiutato e chi sta dentro le regole, perché chi sta fuori dalle regole, chiunque so sia, deve andare via dalla città. Nello specifico questo progetto fa sì che anche privati cittadini possano mettere a disposizione i propri alloggi? Sì, alloggi che potranno essere ristrutturati con fondi europei che ovviamente transiteranno attraverso il comune e che potranno essere affittati a prezzi calmerati ma sempre accettabili per metterli a disposizione di persone che oggi vivono un disagio sociale ovviamente sempre seguiti dall'amministrazione comunale, dai centri sociali, da coloro che comunque operano nelle attività del sociale come la Caritas, come la Mensa di San Francesco, come le tante associazioni che forniscono una rete di protezione in città e che assolvono a un compito sicuramente fondamentale per far sì che tutti si possano trovare bene in questa città.